Salve ragazzi, benvenuti al canale, oggi ragazzi di nuovo qui sulla splendida mappa No Man's Land, qui su Farming Simulator 22 Allora ragazzi, siamo riusciti nello scorso episodio appunto con l'inizio della trebbiatura qui sui nostri bei campetti Avevo già iniziato a trebbiare il campo 1, adesso siamo qui alle prese col campo 2 Oggi purtroppo non c'è il collega a darmi una mano ma no problem perché tanto ho da farvi vedere un sacco di cose veramente interessanti che ho fatto Ma prima di spoilerarvi qualsiasi cosa vi ricordo che giù in descrizione potete trovare tutti i miei link utili Ho preso anche un link che vi permette di comprare questo ma anche tanti altri giochi scontati Allora, metto un attimino a lavorare l'operaio, poi vi dico le miliardi e miliardi di cose che ho fatto off camera Va a, comunque devo dire, molto più intelligente adesso l'operaio, anche nei campi creati da noi abbiamo la possibilità di farli lavorare Allora, ho scaricato un po' di mod, ho messo dentro un po' di mod e poi piano ve le elenco Ma la mod penso più bella e più importante è finalmente la mod dei cartelli per i campi In realtà sono bandiere che ovviamente ho dovuto modificare una per uno io Quindi le scritte sono tutte fatte modificate da me, praticamente l'unica cosa che è rimasta è stata lo sfondo della bandiera Non è tutto male, guardate raga, campo 1, campo 2 e ovviamente c'ho anche il bellissimo campo 3 Che ho dovuto mettere qua perché laggiù non ci stava Ed eccolo qua, campo 3 Guardate un po' raga, andando a schiacciare proprio sopra un... andando a salire sopra un mezzo Finalmente è uscito l'autodrive, io non lo sapevo proprio minimamente Comunque l'ho scoperto l'altra sera e mi sono già iniziato a creare un bel po' di percorsi Oggi ovviamente lo andremo a vedere, ecco ho già combinato disastri ma va bene Oggi lo andremo a vedere, vi faccio vedere, magari facciamo un percorsino Vi faccio vedere appunto il funzionamento, è uguale sempre l'autodrive, anche sul 19 era uguale identico Però vi faccio vedere insomma un pochettino il funzionamento Per chi non lo conoscesse diciamo che è una mod che ci permette di creare percorsi E' la stessa cosa dell'operaio quando lo mandiamo a fare un lavoro insomma Da un punto a un altro vai ed è la stessa cosa l'autodrive insomma Però l'autodrive può anche fare altre cose tipo pestare la pula nel bunker Un bel po' di cosine le può fare, può addirittura venire a scaricare la trebbia direttamente in campo Insomma un po' di cosine in più rispetto al classico operaio che gli dici vai, diciamo che lo fa Andiamo a portare nel frattempo questo qua a scaricare In realtà altre cose che ho fatto oltre alla sistemazione dell'autodrive e appunto queste bandiere che sono andato a inserire Probabilmente non ho fatto granché E poi ho scaricato ancora un po' di mod ma che vi farò vedere man mano nel corso della serie Quindi non voglio andare a mettere troppa carne al fuoco Per il momento scarichiamo il tutto, finiamo di sistemare la trebbia e poi vediamo Ah a proposito un'altra mod che ho scaricato è la mod che trovate all'interno del mod hub ufficiale Insomma nella sezione mod del gioco Che se noi trinciamo la paglia ci dà una passata di fertilizzante praticamente Uno stadio di fertilizzante più Se la mettiamo in andane no Solo se la trinciamo quindi come in questo caso qua Che noi ne avevamo trinciato un pezzetto Se c'era già questa mod qui sarebbe stato fertilizzato al 50% Raga qua sarebbe stato fertilizzato insomma Adesso vabbè non lo è perché la mod l'ho inserita dopo però Insomma questo è Così almeno abbiamo anche la possibilità insomma di poter guadagnare un pochettino Se la paglia non la vogliamo con uno stadio in più di fertilizzante insomma Allora abbiamo 8700 euro La cosa che devo andare per forza a comprarmi è un cassone da carico Io mi sono inserito una mod che è questo qua Taurup della Wernerland dovrebbe essere Eccolo qua Sì della Wernerland Che costa 5000 euro In teoria di base ne costava 15.000 Ho abbassato un pelino il prezzo perché 15.000 euro per questo cassoncino mi sembrava veramente un po' troppo Quindi ho abbassato un pelino il prezzo effettivamente La compriamo per appunto 5000 euro Ed eccolo qua raga guardate quanto è carino Prendiamo Niente devo andare a scaricare la trebbia Poi andiamo a prendere il nostro bellissimo 110-90 Allora finisco ancora io questo pezzettino così almeno siamo già a posto e sistemati Almeno non dobbiamo fare più nient'altro E dobbiamo aspettare di andare alla giornata successiva Che comunque già tra poco eventualmente possiamo fare Giusto il tempo di raccogliere la paglia Ma andiamo al giorno successivo così iniziamo a raccoglierci la colza E almeno poi con quella colza per l'appunto la puntata di oggi si incentrerà sulla colza Proprio perché voglio andare a portarla a frantoio e iniziamo a fare l'olio di colza insomma Allora raga nel frattempo che scarica volevo vedere un attimino l'orzo, il frumento, le fluttuazioni dei prezzi Ma mi pare che il prezzo massimo per entrambi si aggiri intorno a dicembre Quindi vabbè in inverno ancora diciamo che siamo Nooo si è bloccato Ci vorrà almeno almeno un anno Un anno e mezzo barra due direi Prima di iniziare a guadagnare un qualche cosina di Veramente buono diciamo Oh qua mi sa che non passo adesso eh Ah no giusto giusto che fortuna bene E bla 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 paglia Mi segna zero ma va bene ok Ehm impianto di riscaldamento a biomassa ok si Ehm vabbè questo qua non è niente 104 si Si vende si vende però la devo vendere comunque a dicembre Ehm vabbè dai cerchiamo di resistere almeno fino a dicembre ragazzi Siamo a luglio Agosto settembre ottobre novembre dicembre cinque mesi dai Devo far passare cinque giornate praticamente Potrei farcela effettivamente potrei farcela Allora ecco intanto il nostro bellissimo bellissimo devo dire Perché è veramente molto carino Ehm cassone da carico Molto alto devo dire eh molto alto Mi sembrava un pelino più basso Vedendolo insomma nel negozio Vediamo un attimino In teoria ci sono 30.000 litri Può tenere 30.000 litri se non mi sbaglio 30.000 litri e 300 una cosa del genere Mi sembra che Cavolo se la cava veramente bene eh Se la cava davvero davvero bene ragazzi Devo dire poi specialmente per il prezzo con cui l'abbiamo pagato Devo dire non è affatto male Solo 5000 euro Però devo dire è un vecchio stile Però ci sta secondo me anche in questa mappa È molto bello vedere Determinati tipi di attrezzature o mezzi addirittura Grazie a tutti Ok raga Niente pensavo di riuscire a Riempire il cassone molto prima In realtà invece Ho praticamente finito tutto il campo Ehm ci siamo mangiati tutta la paglia Abbiamo fatto da questo campo circa 28.000 litri Poco più perché adesso qua c'è ancora un pezzettino Che fa fatica a frenare eh Questo fiat Fa un po' fatica Quando è carico di roba Comunque E così poi una volta che comunque iniziamo la trebbiatura colza Facendo ovviamente l'operaio Vi faccio vedere anche l'autodrive Che comunque l'ho iniziato a settare però Ve lo faccio vedere comunque anche perché dobbiamo fare Ancora un paio di punti nella mappa Li dobbiamo fare quindi ve lo faccio vedere molto volentieri Allora qui devo dire fortunatamente Le aggiungerei È uscita molto 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 più prodotto Abbiamo già fatto un carico E c'è ancora un 2-3 file di paglia 2-3 andane di paglia Guardate qua Mamma mia Carichi al limite della legalità veramente Allora frena Scarichiamo Qui ce ne sarà roba da vendere raga Appena arriviamo a dicembre secondo me Riusciamo veramente a guadagnare un po' di soldini Tra l'orzo Tra il frumento Tra la paglia E anche poi Tra l'olio di colza A proposito Cioè che parliamo di olio di colza Voglio vedere quanto Ci guadagniamo dall'olio di colza Allora si vende bene a novembre E ok dai Abbiamo terminato raga Abbiamo terminato anche questo splendido campetto Allora scarichiamo mostapaglia Andiamo avanti col tempo E iniziamo la trebbiatura della colza Allora Via andiamo ad agosto A questo punto E Per forza dai Dobbiamo per forza andare ad agosto Dai Allora dai Eccoci arrivati Tutto pronto Iniziamo la trebbiatura della colza E Ovviamente Difilata Abbiamo perso un po' di soldi nel frattempo Ma non importa Difilata Andiamo a portare tutto al frantoio E già che ci siamo Con la scusa Facciamo anche Il Percorso autodrive Nella parte in cui non siamo passati all'inizio Guardate che non c'è nulla Quindi è già fertilizzato una volta raga È già fertilizzato una volta Certo verrà fertilizzato a macchie Perché Come vedete Prima che scarica la paglia ci vuole un po' Però grazie a questa mod Che trovate sempre nella sezione mod del gioco La paglia adesso ve la conta come Fertilizzante naturale Ok raga dai Siamo arrivati al Cento per cento Devo dire che comunque Tutto sommato Mi posso ritenere anche abbastanza soddisfatto Perché Abbiamo fatto un pieno Però manca ancora un po' Quindi in realtà Guadagniamo circa 10.000 litri 10.000 no è un po' troppo Però circa 8-9.000 litri 9.000 litri Dai più o meno 9.000 litri 500 Una cosa del genere In teoria dovremmo guadagnare Allora Bom Intanto qui scarica Vi faccio vedere Quello che intendevo Allora La ratura e la calce Non mi interessa Come vedete raga Questa è la zona tutta da Ancora raccogliere Questa è la zona raccolta Come vedete Nei punti in cui la paglia Non c'è andata Mi segna che per l'appunto Non c'è fertilizzazione Dove la paglia è caduta Quindi la paglia è trinciata E si è appoggiata al terreno Mi dice che è fertilizzato Di uno stadio Possiamo risparmiare un po' Di soldini Laddove è possibile Ovviamente Perché se la paglia La dobbiamo raccogliere Ovvio che Il fertilizzante Dobbiamo comunque Consumarlo Però Fino a che è colza Semi di soia Penso che sia anche Col mais Con i girasoli Penso si possa fare Addirittura anche col frumento orzo Se non ci serve la paglia Chiuso il discorso paglia Tralasciando questa cosa qua Allora Partiamo con il discorso Autodrive Purtroppo devo andarmi A reinserire Un attimino Un punto Che purtroppo Per sbaglio Ho tolto Ma già vi faccio vedere Come si fa Avvicinandoci Come vedete C'è questa bacchettina rossa Che ci segue Ovunque andiamo Andando a schiacciare Questo punticino qui In alto Come vedete C'è scritto Crea nuova destinazione Schiacciamo Scriviamo Quello che vogliamo In questo caso Farm Magari scritto Nella maniera più corretta Farm Ok E ci setta il punto Farm Poi noi andando sulla lista Troviamo il punto farm Se dobbiamo andare al punto farm Possiamo andare al punto farm Ovviamente per andare a Vedere tutti questi comandi Dovete schiacciare Questo triangolino Perché se no Di base non vi fa vedere nulla Se non vi appare Una volta che installate la mod Se non vi appare Questo menu Mettiamo caso Siete così Dovete schiacciare Io parlo Sempre di pc Per pc Alt E 0 Del tastierino numerico Se non avete il tastierino numerico Andate a vedere Tra i comandi Dove c'è scritto Abilità O disabilità Ad E lo trovate Detto ciò Dobbiamo andare Intanto schiacciamo il bel triangolino Così vediamo la traccia Questa traccia viola È una traccia doppio senso Quindi su questa stessa traccia Possono andare in avanti E tornare al senso contrario Invece le tracce verdi Come queste qui Hanno un senso di marcia unico Qui raga ho dovuto creare una rotonda Perché guardate quanti incroci Ho creato una rotonda Con un po' di terreno E qua poi ho creato tutti gli incroci Ho voluto raga portarmi avanti Già off camera Non per qualcosa raga Spero non vi offendiate Ma Che non avete visto tutta questa cosa qua Ma l'ho voluto fare Proprio perché raga Sapevo che in questo episodio Avrei dovuto fare tante cose E non volevo perdermi indietro E tralasciare le mie lavorazioni Quindi ho preferito fare tutto qua Allora Dobbiamo andare a fare Il percorso Una volta Che l'add è presente Che avete schiacciato il triangolo Quindi la modalità di modifica Dovete schiacciare su REC Schiacciando REC Con il tasto sinistro Si fa un percorso A senso unico Schiacciandolo con il tasto destro Si fa un percorso A doppio senso Cosa capite Se è senso unico Se è doppio senso Che il pallino È viola Rispetto che Rosso Ok Noi in questo caso Dobbiamo farlo Rosso Iniziamo quindi A partire Ovviamente Sentirete questi suoni Voglio fare Comunque Due sensi di marcia Quindi mi tengo Un pochettino Largo Direi che facciamo L'ingresso L'ingresso di qua Assolutamente L'ingresso di qua E l'uscita di là Certo che lì Poi ci sono i pallet Secondo me hanno fatto un po' Una cavolata A metterlo in questo senso Così eh Il trattore si fermerà Praticamente qua All'incirca Io posso magari andare ancora Un pelino avanti Giusto per sicurezza Ok Qua settiamo il punto Frantoio Quindi Nuova destinazione Frantoio Ok Perfetto Andiamo ancora un pelino avanti Qua poi devo togliere Tutta sta strada Facciamo Rack Devo settare però Il punto Quindi Collegalo Perfetto Perché c'è anche la possibilità Raga di non collegare Un punto Posteriormente all'altro Io l'ho fatto per questione di comodità Ma comunque Di default I punti si collegano già Tutti in automatico Quindi State tranquilli Boom Una volta Fatta la nostra traccia Colleghiamo tutti i punti Se c'è da collegare qualcosa E la questione è fatta Per questo lato della strada Ok perfetto Ho sistemato E c'è stato un piccolo errorino Allora Qua è fatto Quindi da questo Partendo dalla farm Al frantoio Si può arrivare Però se noi arriviamo dal negozio Dobbiamo creare anche l'altra strada Che arriva dal negozio Quindi Stacchiadiamo un attimino Adesso qui Per comodità E mi faccio anche la zona Per andare al Da questo lato di qua Dal negozio Verso il frantoio O dal frantoio Verso il negozio Ovviamente Ok Mi sono creato I vari passaggi Devo andare un attimino A sistemare Solo Questa roba qua Che non voglio che si intersechi In uno con l'altro Ok Abbiamo sistemato il tutto Devo solo collegare Questo E ci siamo Per il momento Le strade principali Le ho create Quindi va bene Vediamo poi Come Insomma Come gestire Le varie circostanze Insomma Per comodità Tengo la modalità Modifica attiva Così vedo Se fa qualche danno Schiacciamo Play Ok Adesso dobbiamo andare Ci mette 33 secondi Dovrei potergli dare Anche la questione Scarica Semplicemente scarica Ok Perché c'è anche la modalità È solo guida Guida e scarica Carica Percori la strada E vai a scaricare Un punto vendita Poi man mano Vedremo tutte queste cose Ok Eccoci arrivati Al punto vendita Voglio vedere se Ok Già scarica Perfetto Bene Ok esatto Come vedete Adesso addirittura In questo farming Simulator 22 Prima non succedeva Ci dà una campanellina Con scritto Questo è arrivato A tale punto di destinazione Ha scaricato Ha fatto quello che doveva fare Insomma Vediamo un attimino Vediamo un attimino Raga Nelle produzioni Ok Olio di colza Possiamo semplicemente In questo senso di qua Andare a togliere Questo porzione Di Di terra Così almeno Oh che bello Finalmente anche nella modalità costruzione Si vedono Oh ma che bella cosa Che hanno fatto Non ci credo Hanno fatto raga Una cosa veramente intelligentissima Perché nel 19 Le tracce Anche se si tenevano attive Non si vedevano mai Non si capiva dove andare A sistemare La strada Adesso hanno fatto Una cosa bellissima Ma sono veramente Euforico Per questa Cosa Veramente Allora Togliamo a questo punto Tutta questa zona Qua Ok Così raga Come vedete Lui passa Direttamente Sull'asfalto E non tocca La nostra Tra virgolette Aiwola Così un po' creata Così Direi che Ci siamo Ci siamo Torniamo a questo punto Facciamo ovviamente Anche la prova Senza Scaricare Andiamo verso Farm Comunque già Tutto sommato Sono soddisfatto Di avervi fatto vedere Comunque questa Insomma Prima versione Dell'autodrive Se poi volete Fatemi sapere Nei commenti Un tutorial Completo Ma veramente Completo al 100% Su tutte le impostazioni Sulle funzionalità Precise Perfette Vi faccio un video A parte Me lo dite Mi fate sapere Nei commenti Tramite Un bel commentino Un bel like Mi fate sapere Mi dite Simu Si Faccio un bel tutorial Perché potrebbe essere utile Anche perché Devo dire Le funzionalità di base Sono rimaste Però Hanno comunque Semplificato E migliorato Determinati aspetti Quindi Se vi interessa Io un tutorial Volentieri Ve lo faccio Direi che possiamo A questo punto Come ultima cosa Veramente ultimissima Raga Andare A scaricare Quest'ultimo Scarico Carico Anzi Di colza Perché oramai Siamo Arrivati anche Alla fine del gameplay Andiamo a scaricare Al frantoio Così mi faccio Anche la foto Di copertina E poi direi Che per questo episodio Raga Possiamo anche Concluderci qua Allora vai Frantoio Direttamente da qua Lui Può prendere E andare Ok raga Come vedete Siamo arrivati Al punto Desiderato Vediamo se Scarica E direi che Poi Comunque Possiamo Concluderci Ah Che bellezza Ah però Non mi ha fatto Scaricare No perché Gli ho settato Io il punto Sbagliato Il percorso Sbagliato Va bene Comunque Detto ciò Raga direi che Per questo episodio Possiamo Concluderci qua Intanto abbiamo iniziato Già a produrre Olio di colza Bene Vedremo poi Nei prossimi episodi Come si evolverà La cosa Detto ciò Ovviamente Vi ricordo Che giù in descrizione Potete trovare Tutti i miei link utili Compreso anche un link Che vi permette di comprare Questo ma anche Tanti altri giochi scontati Vi chiedo di lasciare Tanti tanti bei pollice Nell'insù Per questo nuovo episodio E fatemi sapere Giù nei commenti Se volete un tutorial Completo Dell'autodrive Ve lo porto volentieri Detto ciò Vi mando un grosso saluto E ovviamente Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti